ragazzi questo video esce un po in ritardo bella a tutti ragazzi eccoci qui con un nuovissimo post partita giuve 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 allora triunfiamo finalmente 3 a 1 non me l'aspettavo ragazzi mi aspettavo una vittoria semplice semplice del sassuolo invece abbiamo vinto 3 a 1 è stata una partita dura è stata difficile è stata molto compatta abbiamo giocato a sprazzi bene ma ragazzi oggi si festeggia perché proprio miglior giorno di tutti ronaldo 100 gol non c'è manco il coso non lo sto stappare il vino e anche di bola e ragazzi è andata bene oggi devo dire molto bene meno male dovremmo giocare tutte le partite così peccato che non lo facciamo mai allora secondo me ragazzi il primo tempo l'hanno fatto loro si sono guadagnati il rigore che non hanno realizzato noi però siamo stati bravi e mi viene il termine decisivi concretizzando tutto ciò tutte le occasioni praticamente che ci venivano quindi tanto di cappello per la giuve nel secondo tempo invece ragazzi l'abbiamo fatto noi mi è piaciuto molto culo devo dire la verità culuses che oggi ha giocato molto bene cr7 a sprazzi giocava anche bene di bala ogni tanto faceva una buona giocata e per il resto ragazzi questa partita è stata decisa c'è da fare alcune notte nel sassuolo perché ha giocato ad esempio molto bene a mio parere andrea consigli che non ha di certo sfigurato ferrari che ha fatto una buonissima partita ragazzi il sassuolo è forte il sassuolo è forte oggi ci ha provato con le unghie con i denti non è riuscito a a concretizzare tutte le sue occasioni perché sennò poteva finire per me a mio parere tranquillamente 3 a 3 questa situazione di classifica ci dà un po più di fiducia adesso tutti uniti per per questa champions league poi ragazzi ce la farei al buffoni complimenti pare il rigore diventando parando il suo ventiduesimo in carriera e diventando il portiere più vecchio di sempre a parare un rigore battendo ballotta che aveva il record di 42 anni gg invece 43 ma gg ti posso dire una cosa ma tolgo il disturbo di che ma tolgo il disturbo di che che sei solo un amore a guagliù ti sei solo un amore a parte gli scherzi ragazzi io sono un po dispiaciuto molto dispiaciuto che buffon se ne vada questa è la vita ragazzi allora juve ha giocato bene io direi che ragazzi questo post partita può fine qua noi ci vediamo domani ore 7 con nuovo con l'inizio della rubrica del tg sport ore 7 del mattino e probabilmente anche 11 di sera se riuscirò tutti i giorni a parte quello delle 11 di sera quando ci sono in post partita noi ci vediamo appuntamento domani con il tg sport link in descrizione bello